Eccoci in diretta da Lami con lo chef Gerardo Denza, il chef ufficiale del Buon Pescato Italiano. Ci hai fatto un paio di dimostrazioni di piatti con del pesce povero che solitamente non viene cucinato. Quindi si può cucinare del pesce povero? È buono? Come no, è molto ricco di Omega 3, per questo noi stiamo girando, abbiamo girato anzi le 5 tappe in Italia, abbiamo iniziato dal Veneto fino ad arrivare in Sicilia. Abbiamo fatto la Puglia, la Campania, la Calabria e poi come conclusione in Sicilia e adesso oggi siamo qui con concomitanza dell'Ami. Hai cucinato del tonnarello, che cos'è il tonnarello? Il tonnarello sono varie famiglie che come l'alletterato oppure come il tonno dipendono da alcune famiglie che inglobano questo tipo di pesce in cui andiamo a cucinare. Quindi la carne è buona quanto il tonno? Sì, è ottima perché noi andiamo a valorizzare proprio questi pesci, per questo noi li andiamo a cucinare con dei prodotti poveri che ancora tutt'oggi noi in fase della crisi abbattiamo i costi con questi prodotti. Va bene, ti ringraziamo molto. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.